Siamo qui oggi con Laura Gauthier, Iena di professione e ci racconterà un po' della sua esperienza in radio e in televisione. Laura, ieri hai presentato la terza edizione di Strasingol, com'è andata? No, è andata molto bene, è stata una cosa molto carina, è bello vedere che ci sono tanti single, anche giovani, che invece che far tardi il sabato sera in discoteca per incontrare la mia gemella, si sono alzati alle 8 del mattino e hanno fatto comunque una maratola di 5 km, è stata una cosa molto simpatica. In quanti erano circa? Circa 1000-1500, non pochi, non pochi single. Ti sei divertita? Io mi sono divertita moltissimo, faceva caldissimo, avrei voluto tanto correre, però poi mi sono arresa subito praticamente, è stata una cosa molto divertente davvero. La presentazione di questa terza edizione è avvenuta perché tu sei, rientri nella categoria dei single? Io sì, più o meno sì. Però non hai incontrato nessun'anima gemella ieri? No, ieri non ho cercato tanto, perché comunque avevo un ruolo da presentatrice, non potevo mettermi a cercare un'anima gemella, stavo lavorando comunque. Corteggiatori? No, corteggiatori no, nel senso erano un po' Patrick del grande partito, ma credo lo facesse anche lui per lavoro, no, corteggiatori no. Radio DJ, come è nata questa collaborazione, come è proseguita questa esperienza, cosa stai facendo? Allora, è nata dieci anni fa, nel 1999, ero in vacanza a Riccione e ho incontrato Linus e ha saputo che ero mezza francese e mezza inglese e aveva bisogno di una voce inglese soprattutto, quindi mi hanno fatto un contratto, andavo in radio una volta alla settimana dopo la scuola e poi a 18 anni ho iniziato a fare la diretta per tre anni, poi Linus mi ha messo diciamo così a All Music perché fa sempre parte del gruppo Espresso e adesso sto facendo un programma su M2A e la voce ufficiale di DJ TV. Da un anno a questa parte, collabori con le Iene? È partita più o meno un anno fa e è l'unico programma che è uno dei pochi programmi che mi piacevano e ho sempre guardato le Iene con grande ammirazione, pensando che fosse un po' più facile, poi mi sono resa conto che non era così, però avrei tanto voluto farlo, ho conosciuto un autore delle Iene, sono stata un po' in redazione per capire come funzionava lì dentro e poi mi è venuta una piccola idea, nel senso mi è venuto in mente un nome, Rocco Sifredi e l'autore poi ha fatto tutto e anche Rocco Sifredi poi ha fatto tutto da solo e da lì è partita la mia esperienza con le Iene. Quindi il tuo primo servizio è stato quello con Rocco? Con Rocco Sifredi. Qual è stato il servizio che più ti è piaciuto portare avanti in questo anno di esperienza con loro? Allora, mi è piaciuto tantissimo baciare Hugh Jackman che è l'uomo più seguito del pianeta, però a livello umano devo dire che ho fatto un servizio sulla pedofilia, su un padre che abusava delle sue bambine e a livello umano poter aiutare questa madre che non vede più le sue figlie perché appunto il padre le ha rapite e ha abusato di loro, a livello umano magari è stata la cosa che mi ha toccato di più. I suoi progetti prossimi? I miei progetti prossimi sono sempre le Iene, quindi sempre devo preparare un po' di servizi, sempre la radio, ci sono un po' di cose in ballo però adesso vediamo e sicuramente finire l'università. Quanti ti manca? Mancano otto esami, scienza e comunicazione all'insubro di Varese, se volete darmi degli appunti fatelo assolutamente. Per l'estate? Per l'estate vado in Francia con mia madre, nel sud della Francia a cercare una casa perché lei si dovrà trasferire lì in autunno e poi non ne ho idea, anche lì se avete delle proposte chiamatemi, invitatemi.